E' andata all'Olmo Ponte l'edizione 2023 del Memorial Roberto Laurentini, torneo di calcio riservato ai giovanissimi, che ricorda la figura del medico aretino deceduto nel corso della finale di Coppa dei Campioni dell'Aisle il 29 maggio del 1985, 39 vittime della violenza cieca e brutale. Laurentini perse la vita mentre era intento a cercare di salvare un'altra vita. Nella finale del Memorial, organizzato dal Santa Firmina ed arrivato alla sua 25esima edizione, l'Olmo Ponte ha sconfitto in parietà della San Giovannese grazie ad una rete segnata nelle battute conclusive della partita. Al terzo posto, ex equo, si sono classificate Terra Nuova Traiana e Arezzo Calcio. Al termine dell'atto conclusivo, oltre ai premi riservati alle migliori squadre, sono stati come da tradizione consegnati anche riconoscimenti individuali ai giovani calciatori che maggiormente si sono messi in mostra. Ma al di là dell'aspetto agonistico, il torneo ha fatto come sempre da corollario all'Associazione Familiari delle Vittime dell'Aisel, voluta dal padre di Roberto, Otello, e ora portata avanti dal figlio, il collega Andrea. Ed ha rappresentato il momento finale di Io ti rispetto, progetto di educazione civico-sportiva in cui cinque illustri testimonial dello sport a retino, Daniele Bennati, Attilio Sorbi, Orlando Fior di Giglio, Jacopo Bianchi e Nicoletta Tinti, hanno incontrato gli studenti di cinque scuole superiori con indirizzo sportivo, facendosi portavoce dei valori nobili dello sport.